Hanno coronato il loro sogno d'amore con l'unione civile, l'istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, entrato in vigore nel luglio del 2016, che stabilisce il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso. Paola Desi, priolese di 25 anni, e Maria Grimaldi, anche alla 25enne da Foggia, ieri mattina hanno detto il fatidico sì, consolidando il loro nuovo stato civile con la firma dell'apposito registro. Si tratta della prima unione civile celebrata nel comune di Priolo. Il rito civile è stato ufficiato dall'ex parlamentare regionale Pippo Gianni, che per l'occasione ha indossato la fascia tricolore, su specifica delega ottenuta dal commissario straordinario. Paola indossava un vestito blu con camicia bianca e cravatta blu, capelli cortissimi rasati sul lato destro, ha impalmato la sua amata Maria, che indossava un talier bianco con pantaloni neri mentre in pugno stingeva il classico bouquet. Al culmine della cerimonia si sono scambiati l'alendo tra l'applauso dei genitori e dei parenti che hanno assistito alla cerimonia. La coppia si è conosciuta sette anni fa attraverso il social network Facebook, si sono frequentate per un certo periodo e poi hanno deciso di condividere le loro vite. Già da qualche tempo hanno deciso di stabilirsi a Priolo, dove continueranno la loro relazione di coppia. Grazie a tutti.